musica dai 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 non vedo l'ora non vedo l'ora non vedo l'ora di iniziare un'altra parte di metroid prime allora ci stavamo dirigendo verso il prossimo boss che ci dà gli ultimi due potenziamenti dopo di che li avremo tutti tac non dovrebbe essere molto lontano se non sbaglio qui prendiamo l'ascensore beh no si non è neanche tanto vicino eh però ah qui non ce la voglio di battere questi fastidiosissimi nemici ehi ascensore portami giù è un ordine ok bam 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 questo punto forza brutto forza lo sporo sporo mi piace legge in silenzio mi piacerebbe posto ehi tu ragazzi cosa ci fai? e io che ridio perchè ti ho buttato nel fuzzin la prima volta che ho ammazzito in pirata buttandone nel fuzzin è troppo divertente questo che diventa il mio prossimo hobby questo qui è un altro tipo di metroid molto più fastidio è diventato enorme la prima volta che... ahhh che schifo la prima volta che mi succede non pensavo che potessi diventare così grande mamma mia mi sono preso uno spavento uno spavento ragazzi cioè lui si attacca a noi ma non fisicamente a distanza diciamo è un metroid wireless ehi chi mi ha attaccato? bastardo ah fantastico mi ha pure buttato non è facile mamma mia questo qui è il tipo di metroid che odio di più perchè magari mi stai saltando e no questi qui ti prendono e ti cambiano una rotta come è successo una volta poi ti vengono direttamente incontro no? fastidiosissimi qua mi diverto di più a battere il boss finale che a battere loro devo dirlo anzi non vedo l'oglio di arrivare c'è un po' spinale allora vi si fa perso completamente l'orientamento qui dove siamo? da nessuna parte allora questo gioco purtroppo è pieno di nemici fastidiosissimi fastidiosissimi aia adesso come saliamo? ah di qua di qua qui ok ci abbia fatto sembrava impossibile ma ce l'ho fatta amaro montenegro sapore vero pubblicità occulta questa è pubblicità occulta ecco qualsimpatica creatura ci fornisce un gancio penso che sia l'unica creatura di questo gioco che non ci faccia male cioè insomma l'unica creatura del gioco che non vuole farci male bendezze vero? esatto gigabomba wow wow ne avevo sei e io che mi sbattevo per trovarne uno adesso ne ho così tante che è malapena posso regalarle ahi dove sto andando cioè sono entrato e poi sono tornato indietro questo quasi non mi è successo a nessuno allora qui prenderemo l'ultimo sigillo ma non possiamo ancora prenderlo perché ci sarebbe un altro potenziamento quindi qui bisogna usare la turbo mafosfera ecco là sotto si trova l'ultimo potenziamento ma è pieno di fazioni ci faremo soltanto un gran male in realtà possiamo andare a prendere però cioè perdemo così tanta vita che escono niente mi sembrava che in questa stanza o comunque in una simile ci fosse ci fossero dei nemici invisibili però vabbè odio i mitroid odio i mitroid fatti prendere oh le ci voleva tanto ok saliamo ok fammi cadere e sei un metroid morto mamma mia cioè non ne devo risparmiare nessuno tutti vogliono morire noioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio O c'è qualcosa di interessante Infatti c'è una stazione salvataggio Proprio come intuivo Ah no non è una stazione salvataggio Allora intuivo male Questa qui deve essere o una stazione ricarica missili O una mappa del mondo Missili completamente ricaricati Ah benissimo come se ce ne servisse Ne avevamo già abbastanza grazie Beh qualcuno in più non può far male Ma non è possibile Sono caduto in me Cioè fra il fungo e la piattaforma Questa cosa è successa solo a me Ecco Ho saltato il fungo Mamma mia mi stanno succedendo delle cose in questo work track Vediamo se ce la faccio Grande Ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta E' troppo buio non ce la puoi fare qua Anche con il visuale tecnico non è che si capisca tanto Perlomeno io non ci capisco tanto Inizio e meno male che Samus ha una tuta super protettiva Sennò sarebbe già Cioè con tutto fazion che ha preso sarebbe già diventata E non si appende Guarda normalissimo Succede tutti i giorni Non so perché io a volte primo z e non si appende Allora Questa qui è una delle stanze che odio di più Cioè E' difficilissima E' difficilissima Poi già io che sono un tipo impaziente Dove pure aspettare che Arrivi la La cosa per il gancio E non ce la faccio Non so perché ma lo intuivo La sfiga che ho io E poi raggio ganci difettoso Allora Sarà la quarantesima volta che ci proviamo Io a momenti taglio E riprendo finché non ce l'ho fatta Perché è veramente difficilissima Sì Sì Finalmente abbiamo finito questa stanza della Della minchia Fatemela dire È una stanza della minchia questa Ecco E' in questa stanza che c'è un mostro invisibile Non c'è dovrebbe essere altro infatti Allora Qua Qui è Quanto ci manca ancora Dai una stanza Pirati rossi Sono i primi che incontriamo vero? Bene Benissimo Allora Allora Qui aracnosfera Poi uno e due E poi uno e due Aiaiaiaiaiaia Aiaiaiaiaia Perfetto Poi Poi bisogna andare Mi sembrava che bisognasse infatti Raggiugaccio Benissimo Allora Allora Disattiviamo Questa cosa qua Poi ammazziamo i pirati Che non dovrebbe essere tutto difficile con il raggio plasma Che è il più potente Ah è viola Oh ho visto Oh io ho cambiato il raggio Ecco Dai forse riusciamo a arrivare il boss in questa In questa parte Cioè si di sicuro ci facciamo Non è che Ok Qui ci dovrebbe essere una porta Qua intorno E porta probabilmente A una stazione di salvataggio Non è questa Quella per andare avanti Ah la dovrebbe essere qua sotto La porta secondaria Ecco infatti Allora Apriti ragazza Ok Le mie mani sono sudatissime Vuol dire che sto giocando da un bel po' Infatti sa la quarta o quinta parte Che sto registrando di seguito Perché io registro 5 o 6 parti di seguito No Poi per 5 o 6 giorni non registro In questo modo riuscirei ad avere Più o meno un video al giorno Ma già Più o meno Perché tanto Accordite Mi sembra che Ho solo i supermissili Eh infatti Ho ben trovato un'espansione di missili Bene saliamo Andiamo dove stavamo andando prima Quindi Ormai siamo vicinissimi al boss Muori 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 Ah si Eh scongeliamola E voilà Ecco Questo qua è il boss Ci avviciniamo Ta 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 Ed ecco il super mega Iper ultra Pirata omega Alpha Beta Come lo vuoi chiamare Che brutto Lavati i denti ragazzi Non sai che si usa lo spazzino da queste parti Mamma mia quanto sei grosso Bisogna distruggere uno ad uno tutte Tutti i cosi Tutti i pezzi di fuzzy Aia Allo stesso tempo bisogna Stare attento perché intorno C'è il fuzzy Ma quanto è resistente con la gamba Ma scusa ragazzi Ma Cioè è anormale Troppo resistente Molto più resistente Qua il primo Sto di sicuro Sbagliando qualcosa Perché Oh Pacca mi Minchia Usiamo un altro raggio Perché è strano Cioè bisogna stare lontanissimo Da questo nemico E intanto bisogna stare attento Anche al fuzzy che c'è intorno Olè Finalmente Ce n'hai messo di tempo Per distruggerti Allora E vai Allora Manca l'ultimo pezzo E poi potremmo fargli male Perché adesso noi stiamo facendo male No Ho sbagliato fasto Ah che culo Adesso chiama i pirati Di cui noi però Ce ne freghiamo altamente Lo cerchiamo Ma È là No Non è là Per poco dovrebbe comparire E non è che me lo ricordo molto bene Sto boss Per poco dovrebbe comparire Ecco infatti Noi possiamo colpirlo Ok Ora ci sbarziamo dei pirati E intanto stiamo attenti al pirata Gigante intendo Pirata Omega Stai fermo stai Mamma mia Eccolo qua Signore santo Ragazzi vi devo salutare Ci vediamo alla prossima parte Di Metroid Prime Ciao